ragazzi bentornati in questo video di ring 6-8 in classe mappa parco di vestimenti in team prima round va chiuso che attacco ovviamente lui ha detto che fai io qua attacco 199 quello 158 vabbè 74 mi sa che sono arabi questi eh amir vabbè si è arabi anche alfa è arabo alfa tu sei arabo eh ma se voglio io lascio un drone sopra se vi serve già non c'è che sei lì guardate che ho messo il drone ah ah chiuso a porti ora attenzione la posizione dei contenitori che iniezione Grazie a tutti. Ah, spero, lancio una bomba, spero. Ah, spero. Ah, spero. Switch. Switch, fammi mettere a me qua un attimo. Ah, poi io passo dall'altra volta. No. Ah, spero. Aspettate, raga. Attento alle trappole. Wow, solo lì potevo accappare una trappola di Frost, ovviamente. Solo io. Però... Kill con la bomba. Avevano pure i mute i lit. Bella, bella. Grande, raga. Sì. Ovviamente dovete lasciare il like sotto. Ecco, ne vedete. È l'appenato più alto. Quindi ha un lesion che rompe. Un capo che ha un Frost. Un capo. Oppure un eco. Un eco pure. E poi che cazzo rollo. No, no. Perché appena non ti fermi, tu ti sta fermo per levarti quel coso. So pulsi. Ma chi è? Allora, metti trappole qua. All'inizio delle porte. No, dall'altra parte la devi mettere, sennò la vedo. Allora, metti la d'alto di qua. Allora, metti la d'alto di qua. Allora, lo so. Questa metti la di qua. Allora, lo sai. Non lo sai. Lo sai andando di là. Di là. Allora, lo sai. no gioco avete fatto botola i botola non l'hanno fatto si si oh barrio barrio bella peppe oh mamma mia andate ti fanno io manca una paricata basta proprio veloce non mi ti fischio bella che non c'è se dove si può mirare dalla finestra in mezzo ai no no bella non ce l'ho il bf insomma è lo stesso fatto di ieri di tuo padre che deve levare anche lui quello si può giocare così mettiti in mezzo ai dei cose chimiche la puoi vedere la finestra in mezzo ai dei cose chimiche mamma mia che tim no bravo cenni no ne ha fatto quattro ne ha fatte quattro cennaro ah no ah no ne ha fatte due ah si una Mirro una Vincenzo uno Peppe e due e ovviamente niente non 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 No, non stanno Eh, ho visto Quando? Ma io non ho le bombe No Perché mi si vuole? Tu stai fermo? Io non ce l'ho Vado a vedere il telefono di mio padre Eh, leva Oh, mi fate entrare anche a me, grazie Grazie, caricatori No, vi sto Dove sta il riso? Aspettate Buono Vai, vai, questa è vinta Racco, amma, mi si fa un gato Ha fatto volare Ah, levato E poi facciamo l'ultimo tempo Facciamo forte, metto Dobbiamo proteggere il contenitore di più inizio Spendete la stanza Spendete la stanza Spendete la stanza Vattene, vattene Vattene, vattene Guarda l'alba Come ha fatto? Dal buco, là sopra Vattene Vattene, vattene Vattene, vattene L'imperimento è brutto Buono Vattene, vattene Ecco la pistoletta Visto? Sta sulle scale No, là, di là Non interroga, sta un'altra Vattene Sono sottofitti Stava coltellando Oh! Era popa edge o non rischiate non rischiate no sta nel tunnel no aspetta l'ho tanto e devo entrare mancano 10 secondi bella bella non fa niente raga ci vediamo al prossimo video di rainbow questo video è fortissimo ma ce le faccio vincere tutte ciao 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 ciao